Ancora una giornata nera in Irpinia per quanto riguarda la lotta al Covid. Nelle ultime ore il virus ha ammietuto altre cinque vittime. Sono infatti deceduti all'ospedale di Ariane Irpino una 66enne di Mariglianella e un 84enne di San Sostio Baronia. A comunicarlo è l'aslo di Avellino. Entrambi erano ricoverati in terapia intensiva. D'altri colle fanno anche sapere che attualmente non ci sono persone ricoverate in terapia intensiva. Sono 7 su 12 posti letto i pazienti in medicina Covid, 19 pazienti d'area Covid, di cui 11 su 16 posti letto in medicina, e 6 su 10 posti letto in subintensiva. All'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino è deceduta invece nella tarda serata di ieri al pronto soccorso una 68enne di Avellino. La donna è stata trasportata alla città ospedaliera in gravi condizioni e il tampone molecolare seguito al suo arrivo ha dato esito positivo. Questa mattina invece a perdere la vita al Covid ospital è stata un 89enne di Sirignano ricoverata dal 20 novembre e deceduta infine questo pomeriggio un 87enne di Avellino. L'anziana era ricoverata dal 29 novembre in terapia subintensiva. Intanto l'ASL ha comunicato la positività di 52 persone su 590 tamponi effettuati. 15 casi si registrano a Montoro, 6 ad Avellino e Serino. Il tasso di positività in Irpinia si è attestato all'8,8%, più alto rispetto a quello campano del 7%, dopo i 1.088 casi positivi scovati su oltre 15.400 tamponi effettuati.